Nicolò, tutto finisce come era iniziato, comunque è arrivata una splendida vittoria qui sul traguardo di Udine. Sì, insomma, una bella vittoria, un po' di rammarico per, credo, il secondo posto in classifica generale, visto che sia, credo, sia meno di un secondo il distacco. Puntavamo all'obiettivo grosso, un po' di rammarico per non averlo conquistato e niente, tutto qua. Nicolò, che segnali ti ha dato comunque questo giro per il tuo futuro, per la tua crescita? Ma, insomma, è un giro corso da protagonista, sicuramente, ho capito che posso essere competitivo anche su terreni più arcini, visto il mio terzo posto di ieri sullo Zoncolan, mi dà fiducia e morale per i prossimi appuntamenti, questo è sicuro.